Ciao ragazzi, è incredibile come ancora, dopo tutto questo tempo, io continui a ricevere dei commenti ai miei video. Lo dico perché non pensavo che YouTube rendesse ancora visibili i miei video, ma recentemente ho ricevuto un commento interessante. Una ragazza, forse, forse, una ragazza asessuale a suo dire, ha commentato sotto un mio video in cui dicevo che bisogna uscire di casa, altrimenti ci casca l'organo di riproduzione. Allora io questo messaggio continuo a ribadirlo, bisogna uscire di casa, altrimenti ci casca il pisellino, però voi direte, ma tu stai dentro casa e ci dici, io sto per uscire, il problema mio è che adesso qui fuori c'è il sole e come vedete, ecco, sono stato un po' troppo libertino e praticamente non posso più di tanto andare in giro senza scottarmi, ma esco, tra un po' esco. Ma il punto del video non è questo se io esco o no, è che la ragazza supportava le sue argomentazioni dicendo ma non ci sono studi scientifici che supportano quello che tu dici, cioè che se non esci di casa ti casca il pisellino. Ora voi ragazzi non dovete stare appresso a questi studi scientifici, questi studi scientifici, perché non esistono gli studi scientifici. Io mi ricordo ai tempi in cui provavo ad entrare nel giro dell'università, mi ricordo infatti che noi all'università non facevamo altro che andare in giro a cercare soldi, soldi e quindi diciamo ovviamente in maniera, fatemi dire, dipendente da chi era il nostro interlocutore, noi andavamo a dire certe cose, a verificare, a dimostrare cose, quindi posso solo immaginare, posso solo immaginare gli studi scientifici quanto possano essere iniziati da ragioni economiche. Ma a parte questo io vorrei sapere uno scienziato serio che si mette a dimostrare che se tu esci di casa diventi asessuale. È chiaro, è chiaro che non interessa a nessuno. Io questa cosa che vi dico è vera, è vera e non avete bisogno di studi scientifici. Infatti alle volte noi non ci rendiamo conto ma siamo chiusi in casa, facciamo la vita di un topo in gabbia e questo reprime i nostri istinti sessuali. La cosa è questa, che vi piaccia oppure no. Ora voi continuate ad andare ad arretta agli studi scientifici, peggio per voi. Io da un po' ho maturato la convinzione che non posso stare qui a spiegare, a dare consigli, fate quello che volete. Tanto poi il percorso di ognuno, diciamo, merita a dignità, merita rispetto. Quindi voi al momento volete essere asessuali, volete crogiolarvi nella vostra asessualità, volete far parte di una nicchia, volete essere riconosciuti come facente parte di una nicchia. Buon per voi, buon per voi. Oggi è così, domani chissà. Perché d'altra parte io mi rendo conto che ci sono molti ragazzi giovani, ragazzi e ragazze giovani, asessuali. E fate come vi pare ragazzi. Tanto poi crescendo si impara, voglio dire, si impara. Tanto a vent'anni uno pensa di essere in un certo modo, di non poter cambiare e che nessuno possa far cambiare idea. Ma in realtà la cambierete, la cambierete piano piano, da soli, non c'è bisogno di nessuno che vi dica niente. Ecco, questo è il punto. Perché ho sviluppato questa sensibilità, questo rispetto? Ormai veramente fate tutti come vi pare. Ultimamente tra l'altro ho avuto anche un momento, un brutto momento per me, perché stavo infatti dicendo questo, dicendo che Netflix educa non tanto alla sessualità, ma fa proprio educazione sessuale per deviare. Non è sessualità, diciamo transessualità, omosessualità, asessualità, è proprio deviazione, per deviare la sessualità da quello che è il giusto cammino. E infatti c'è tutta una sezione Netflix che si chiama Sex Education, io non lo sapevo. Allora ho cominciato a contestare questa cosa qui insieme ad un gruppo di ragazzi. Uno di questi mi ha detto veramente era un ragazzo squisito, ma era, quando me l'ha detto in uno stato, diciamo era un imbarazzo. Mi ha detto guarda io mi sento un imbarazzo, se tu, quando tu parli in questi termini della sessualità e perché io... Allora l'ho abbracciato, gli ho detto guarda, io non ho problemi, io non ce l'ho con una persona che si sente, non lo so, toccata da queste cose, ma bisogna anche però affrontare la realtà, bisogna vedere quello che questi stanno facendo. Perché se io vedo cartoni come Big Mouth e sono cartoni animati e in cui proprio ne succedono di tutti i colori, ai ragazzini di 10 anni, 11 anni, io dico a questo punto è una sessualità deviata e voi non potete far finta di non vedere questo. Io l'ho abbracciato questo ragazzo, scusami, scusami se ho urtato la tua sensibilità, però dobbiamo guardare quello che succede. Comunque, non ne voglio sapere niente, fate come vi pare ragazzi, ormai ho sviluppato questa consapevolezza, esiste un cammino, scusate, per tutti noi, voi percorrete il vostro, io percorro il mio, ma se volete io posso condividere con voi quelle che sono le mie esperienze. Detto questo, un bel pollicione, questo non fatelo mai. Ciao! Grazie a tutti!